Quarta domenica di Pasqua, il Vangelo ci parla del buon pastore, perché questa è la domenica del buon pastore. Che cos'è un buon pastore? Che cos'è una relazione con Cristo come buon pastore? Il Vangelo, che è tratto dal capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, è una serie di indicazioni luminose su questa relazione con Cristo. Comincia con il dire che chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma avvisare da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Invece chi entra dalla porta è il pastore delle pecore. Il pastore entra per la porta, Cristo entra per le cose rette, non per le cose tortuose o forzate. Con Cristo non si fanno forzature. Quante volte nella vita spirituale dobbiamo stare molto attenti a questo tipo di atteggiamento, quello per cui pensiamo che forzando le cose si cammini, non si forzano le coscienze, non si forza niente della vita spirituale. L'orologio interiore è un orologio delicato e si assimila la salvezza al ritmo di un rapporto con la velocità di una relazione che cresce piano piano e che cresce nella libertà. Entrare per la finestra, entrare per un'altra parte, non è mai la strada di Cristo. Quante volte noi crediamo che nella vita vale la pena di spingere, forzare, manipolare, imporre il ritmo del nostro cervello alla vita, invece la vita ha il suo ritmo e bisogna obbedirgli. Ecco, il pastore entra per il suo ritmo, entra per la porta. Ciò che non entra dalla porta è una suggestione, è una forzatura, è un inganno. Il guardiano gli apre, perché abbiamo un guardiano interiore che apre a Cristo. Noi abbiamo qualcosa che nel cuore apre. Infatti la prima lettura parla di questo cuore che si apre, si lascia trafiggere da quello che i discepoli dicono, perché nella prima lettura appunto leggiamo il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, dove Pietro annunzia che quel Cristo che è stato crocifisso da quella stessa gente è il Signore e la gente si sente trafiggere il cuore, cioè si sente colpita alla sagoma e sente che parla proprio a loro, parla di loro. Ecco, questo è il guardiano. Quando si apre il cuore alla predicazione, si apre il cuore alla verità, si apre il cuore alla salvezza, questo guardiano apre e le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a essi e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Che strana relazione che è stabilita con Cristo, quanto è importante e quante volte abbiamo dimenticato che era questa la strada della relazione con il pastore. Il guardiano apre e le pecore si sentono chiamare per nome. Nella nostra esperienza di salvezza c'è una personalità, cioè c'è un incontro personale. Cristo ci chiama per nome, ci conosce, ci sentiamo conosciuti, riconosciuti. Ecco, è molto importante questo discorso perché noi abbiamo cercato di evangelizzare con metodi, con schemi, con programmi, con progetti e invece bisogna stare nella relazione personale, bisogna conoscere per nome quanto è necessario tutto questo. Tante volte purtroppo non è semplice avere il tempo perché la voce arrivi alla persona e quante volte abbiamo pensato che per far camminare le pecore bisognava bacchettarle da dietro, forzarle, costringerle e invece la relazione con Cristo è molto raffinata, è molto importante e bella. È una relazione che è fatta tutta di libertà. Il pastore cammina davanti alle pecore, non cammina dietro di esse, cammina davanti, parla e le pecore hanno talmente tanta gioia nel sentire la sua voce che lo seguono perché si sentono conosciute. Ecco, questo è un tipo di rapporto che noi abbiamo dimenticato. Abbiamo creduto che la disciplina, la forzatura, l'imposizione, la forza delle costrizioni sarebbe stata il volano formativo essenziale della coscienza e invece il volano formativo della coscienza è il cuore toccato. Infatti nella prima lettura vediamo che questi stessi che hanno crocifisso Gesù dicono cosa dobbiamo fare, si lasciano battezzare e si lasciano portare alla vita nuova. E Gesù aggiunge, io sono la porta delle pecore, tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati, c'è in ognuno di noi una pecora che aspetta la voce di colui che libera veramente, che fa uscire, colui che è una porta, una via d'uscita. Che cos'è una porta? Noi pensiamo alle porte come vengono anche costruite nella storia, agli archi di trionfo, sono le soglie che vengono barcate per significare il passaggio, un passaggio, un momento, una fase. Pensiamo qui a Roma abbiamo gli archi di Costantino, di Tito, di Settimio Severo, che rappresentavano il trionfo di questi imperatori che entravano nella gloria per le vittorie conseguite. Ecco, Cristo è la nostra porta, è il nostro barco. Dobbiamo capire questo quando siamo anche chiusi dentro le nostre realtà, ingabbiati dentro le nostre paure, che Cristo è la porta. E la porta fa uscire. Ed è interessante questa frase, io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà Pascolo. Noi pensiamo che entrerà e uscirà indica un movimento di avanti e indietro, no. Tutte le volte che si esce da un posto si entra in un altro posto, questa è una considerazione banale a pensarci bene. Uscire vuol dire anche entrare, io esco da un luogo e entro in un altro luogo. Ecco, infatti la scopa è trovare Pascolo. Noi dobbiamo considerare, questo è l'inizio del capitolo decimo del Vangelo di Giovanni che viene subito dopo il capitolo nono, come è evidente, semplice conseguenza matematica, ma è il capitolo del cieco nato, il quale è stato cacciato dalla sinagoga perché ha professato Cristo. Ecco, lui è uscito e dove è entrato? È entrato nella vita nuova, con la sua professione di fede ha trovato Pascolo, ha trovato il Signore, ha trovato la vita nuova. Ecco, noi dobbiamo uscire da qualche cosa per entrare nella vita secondo la salvezza. La salvezza implica sempre un'uscita e implica sempre un atto positivo, intenzionale, reale di entrata. Dobbiamo entrare nella vita nuova e uscire dalla vita vecchia. Questi due atti sono lo stesso atto. Nessuno di noi uscirà mai da un peccato senza entrare nella bellezza della vita nuova e senza rompere definitivamente con il peccato, altrimenti non uscirà veramente e non entrerà veramente. E Gesù è la porta. E dobbiamo considerare questa ultima frase di Gesù in questo Vangelo così importante, così bello. E l'altro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, noi dobbiamo considerare le cose che dobbiamo lasciare per seguire Cristo, le cose da cui dobbiamo uscire per entrare nella vita cristiana. Dobbiamo considerare se ci hanno dato la vita oppure no. In genere gli idoli rubano la nostra esistenza, la uccidono e la distruggono. Dobbiamo uscire da tutte le cose che ci depauperano, che ci distruggono e che ci derubano della nostra bellezza. Quanti atti autodistruttivi noi facciamo. E tante volte seguire Cristo, che sembra un sacrificio, non è un sacrificio proprio per niente. Un sacrificio è continuare a vivere nella vita che uccide, distrugge e ruba. Noi dobbiamo uscire dal peccato non perché seguiamo una norma etica, ma per smettere di distruggerci, smettere di lasciarci depauperare della nostra bellezza. Gesù è venuto perché abbiamo la vita, l'abbiamo in abbondanza, non una vitarella da quattro soldi, ma una vita piena, solida, autentica, abbondante. Che il Signore ci dia il coraggio di entrare in Lui e uscire dal mondo, e uscire dagli inganni, e uscire dalle idolatrie, uscire dal peccato, uscire dalle dipendenze, per la sua forza, per la sua voce che ci chiama, perché ci sentiamo chiamati per nome, perché è bello stare con Lui senza forzature, ma nella libertà, certo, nessuno ci può costringere a lasciare qualcosa di sbagliato nella vita. Nessuno ci può costringere a vivere se non come noi desideriamo veramente vivere. La libertà che abbiamo è quella che in fondo desideriamo avere.